Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV Colpo in una azienda di pelletteria in Valdarno. Ci racconta tutto Chiara Sadotti. Le telecamere parlano chiaro, siamo davanti a persone che sapevano che cosa fare, dove farlo e in che momenti. Un colpo studiato nei minimi dettagli e messo a segno in una manciata di minuti, tre per l'esattezza. A finire nel mirino dei ladri, ancora una volta un'azienda di pelletteria di lusso valdarnese. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì a Bomba, frazione alle porte di Cavriglia. Il modus operandi è sempre lo stesso, è sempre lo stesso, quindi pensano che le persone siano le stesse. Due camion rubati sono stati utilizzati come barriere per chiudere la strada, poi i banditi si sono lanciati contro il cancello con un camioncino rubato da un'altra azienda aprendosi un varco. A quel punto sono entrati dentro e si sono diretti nei locali dove erano custoditi i prodotti griffati. Borse e valigie hanno razziato quanto trovato e poi caricato l'area furtiva su un quarto furgone, anche questo rubato. Un pullman della Maddì è passato, ha trovato la strada sbarrata da due camion, due camion di movimento terra qua in fondo. Giustamente dice qui succede qualcosa. I signori si sono visti fortunatamente per noi un attimino a volto scoperto ed ecco che diciamo hanno preso il possibile, sono venuti via altrimenti non so che sarebbe successo ben di peggio. Ed infine la fuga, anche questa studiata nei minimi dettagli, per dileguarsi la banda ha utilizzato le strade bianche che si trovano nell'area dell'ex miniere Enel. Il bottino resta da quantificare, sono in corso indagini portate avanti dai carabinieri per risalire agli autori del furto. Un colpo che arriva a pochi giorni di distanza da quello tentato in un'altra pelletteria, in questo caso a Pian di Scò. La cosa che possiamo fare per adesso è dissuadere queste persone dal tornare guardie armate, quello che possiamo fare nel momento è questo. Stiamo ampliando ulteriormente i nostri livelli di sicurezza, però mi capisce che viviamo sempre sul chi va là, ecco, non è bello perché comunque sono in giro. 23enne arrestato per quanto accaduto fuori da un locale notturno di città di Castello, il giovane di nazionalità albanese, ma residente a Sansepolcro. Dunque nell'aretino all'alba di domenica mattina aveva sferrato una coltellata ad un connazionale, un 25enne, dopo una lite avvenuta, secondo la ricostruzione degli inquirenti, nel parcheggio del locale notturno. La persona aggredita e ferita è stata poi trasportata in ospedale a Perugia, è sottoposta ad una delicata operazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. Una panchina rossa e un roseto che è stato piantato proprio di fronte al palazzo della prefettura di Arezzo. Così l'associazione Aretini Rampanti lancia appunto il suo grido, il suo impegno contro la violenza sulle donne. Per te, donna, è sotto il mormorio dell'acqua unica grazia e tremi per i tuoi incantesimi che sono nelle tue mani. Poesie, storie, una panchina rossa e un roseto parte da qui, di fronte al palazzo della prefettura di Arezzo, l'ennesimo messaggio contro la violenza sulle donne. Bisogna acquisire la consapevolezza e non accettare nessun comportamento che non sia veramente un comportamento di amore, un atteggiamento d'amore. Se l'amore passa per la violenza, se l'amore passa per la prevaricazione, per il possesso, non è amore. Ad organizzare l'iniziativa, l'associazione Aretini Rampanti con il suo presidente Giovanni Grasso, ma oggi nessuna intervista, oggi parlano le donne. Il simbolo principale delle rose va a rappresentare le donne in tutte le sue sfumature, colori, caratteri, le loro potenzialità che molto spesso vengono nascoste, messe in ombra. Le donne, rappresentanti delle istituzioni e della società civile, assieme alle studentesse dell'Istituto Vittoria Colonna, hanno così inaugurato un roseto in memoria di tutte le vittime del femminicidio e una panchina rossa per ricordare che dal tunnel della violenza si può uscire. La panchina ha una caratteristica, è ancorata per terra e permette di fermarsi. Il significato è quello di pensare, di riflettere, di tenere i piedi per terra, di non arrendersi, di guardare anche le piccole cose, perché la mancanza di rispetto, la mancanza di libertà passa anche da piccoli fatti che a volte consideriamo marginali e invece non lo sono e poi a una idea dove in alcune ancora parti del mondo essere donna è un problema serio. Siamo al parossismo che le donne romane, almeno quelle di una certa cultura, erano molto più libere, cioè duemila anni fa, o più autoaffermantisi di quello di oggi e questo per me è un po' un cruccio, devo essere onesta. La mattinata si è conclusa lasciando un fiore sulla panchina e il messaggio più importante, denunciate, chiamate il 1522 se vi sentite in pericolo, non siete sole. Dopo quella di Tregozzano questa settimana toccherà alla Chiassa Superiore, parliamo di scuola, ulteriori lavori messi in campo da E-Distribuzione sono programmati per la giornata di domani, martedì 12 marzo e di conseguenza il sindaco Ghinelli ha firmato una nuova ordinanza appunto di chiusura della scuola primaria Pitagora della Chiassa Superiore. I lavori comportano l'interruzione della fornitura di energia elettrica fino alle 16. Parliamo adesso di politica. Carini si presenta per la coalizione di centrodestra come candidato sindaco di Cortona, un centrodestra assolutamente unito appunto per la sua figura, per la sua candidatura. Il servizio di Laura Lucente. Per noi è una campagna elettorale improntata sul rispetto, sui programmi e sulla visione di città dei prossimi 10-15 anni. Non vogliamo assolutamente più sentire parlare di sciocchezze, di colpi bassi, di cose che non hanno senso e che non interessano i cittadini. Noi vorremmo parlare di programmi. Parte con un messaggio chiaro al sindaco uscente Luciano Meone la campagna elettorale di Nicola Carini a Cortona, espressione unita del centrodestra, imprenditore del territorio, uomo della prima ora di Fratelli d'Italia, Carini è oggi vicepresidente della provincia di Arezzo e ha appena lasciato la carica di presidente del Consiglio Comunale di Cortona. Nella sua prima uscita ufficiale ha ricevuto l'abbraccio convinto di amministratori nazionali, regionali e locali, compreso il sindaco di Arezzo Ghinelli e Macri. Nicola Carini è il fondatore di Fratelli d'Italia, insieme a Claudio, insieme a Federico Dini, di Fratelli d'Italia. Pur nell'ambito del centrodestra, quindi, fatemi esprimere questo orgoglio sincero per un ragazzo che nasce a destra, ma da tutti è riconosciuto come l'ala moderata, a volte un po' democristiano, però non guasta. Perché non vince un centrodestra trainato da un'unica forza, vince un centrodestra polifonico, vince un centrodestra inclusivo. Questa decisione del Centrodestra Unito mi riempie d'orgoglio e di responsabilità. Sento tanta pressione sulle spalle, però fa piacere che hanno riconosciuto tanti anni di lavoro, tanto impegno per il territorio, che credo anche qualche risultato nelle amministrazioni dove sono stato partecipe. Il centrodestra è qui, il centrodestra è tutto qui e è unito, quindi tutto quello che non è qui oggi non fa parte del centrodestra. Carini, ora pensa alla costruzione del programma. Partire dalla sanità, dall'incentivo a Camuscia, un programma culturale completamente diversa, un'impostazione anche amministrativa completamente diversa. Vi faccio un esempio su tutti, per esempio io da sindaco non avrò deleghe, quindi rinuncerò a tutte le deleghe, se non quella al personale, perché credo che dobbiamo creare una squadra forte, una squadra in grado di dare delle risposte positive a tutti i cittadini. Non possiamo più permetterci di avere persone che accentrano su di sé tutte le deleghe importanti. Quindi dobbiamo avere persone che lavorano e lavorano per il territorio. Adesso parliamo invece del mercatino delle Pulci, che si è concluso poche ore fa al centro affari di Arezzo. È stato un nuovo record. A me piace sicuramente l'idea anche di poter indossare qualcosa che ha una storia. Per me è per la qualità, la qualità di un bel abito vintage oggi non si trova più e quindi io preferisco la roba più vecchia ma più di qualità. A noi siamo appassionati di queste cose di una volta, anche quelle che sono già vissute, insomma, che l'abbigliamento a me piace. Gli motivi sono molti. Il più ricorrente è la storia che questi oggetti portano con sé. Ma certo, c'è anche la voglia e la certezza di fare un buon affare. È un buon modo per non buttare e rimettere qualcosa in circolo. Si vede che la gente deve comprare anche qui, insomma, deve comprare risparmiando. Il mercatino delle Pulci di Arezzo ormai di diminuitivo non ha proprio nulla. Ha ampiamente varcato i confini regionali ed è diventato anche motivo di turismo ad Arezzo. Abbiamo soggiornato Arezzo, un giorno siamo di sabato sera. Giuro, giuro, tutti gli anni lo facciamo anche due volte all'anno. Noi andiamo a farci veramente il guardaroba nuovo. Alla fine i visitatori saranno più di 30.000, alcuni anche dalla Sicilia, ad attenderli un esercito di espositori, dalle famiglie che svuotano le soffitte, al vintage fino alle associazioni di volontariato che utilizzano questa ghiotta occasione per fare del bene. Sì, diciamo un esercito molto gioioso, siamo contenti perché è un esercito che inizia anche sempre di più in realtà a collaborare. Quindi questa per me è davvero l'edizione dei ponti, un po' delle creazioni condivise. Ci piace sempre di più il fatto che qui le persone inizino a vendere anche delle passioni, dei racconti, delle creazioni. E' sempre più probabile che la richiesta sia ma io posso fare qualcosa al mio banco anche di diverso? E la risposta chiaramente è sì. In questo caso si vende al mercatino delle pulci perché? Eh perché se forse ci avessi avuto delle dipendenze come dice la mia mamma avrei speso molto meno perché come vedete insomma no, battute a parte si vende perché nel mio caso ho comprato troppe cose e tra l'altro insomma sono nuove quindi si trovano anche delle occasioni oltre che meravigliose, bellissime perché l'ho comprata io quindi quando l'ho comprata mi piacevano e ecco io se c'è un problema non è che lo risolvo compro un paio di scarpe così almeno faccio prima. Qual è il motivo per cui si vende, si partecipa a questi mercatini? Perché è piacevole stare in mezzo alla gente, è piacevole sbolognare un po' delle tante cose che abbiamo in casa e poi perché è bello, è bello stare insieme con gli altri. Oggi 11 marzo ricorre il ventennale della morte di Anna Maria Mez che l'indimenticata storica dell'arte e soprintendente di Arezzo per tutta la sua carriera si impegnò con passione e competenza per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali del territorio aretino uno degli impegni maggiori indubbiamente proprio per la valorizzazione della leggenda della vera croce di Piero della Francesca conservata nella Basilica di San Francesco proprio in ricordo di Anna Maria Mez che l'artista Raffaello Lucci aveva realizzato nel 2017 cinque lettere a Piero, ovvero cinque opere eseguite mediante incisione, pittura e riporto grafico di una parte della prospettiva Pingendi con cui il maestro Arettino restituì una personale lettura dei capolavori di Piero della Francesca nella sezione appunto del sito ufficiale dell'artista dedicata a questo ciclo si può osservare da alcuni giorni una foto emblematica proprio di Anna Maria Mezche che contempla il sogno di Costantino di Piero della Francesca l'ultimo omaggio in ordine di tempo appunto di Raffaello Lucci alla grande storica dell'arte tutto pronto per la bella iniziativa a Cortona che si chiama Cortona e le sue stelle sentiamo ciao amici vi aspetto venerdì 15 marzo a Cortona per celebrare tutti gli atleti che si sono contraddistinti a livello nazionale ovviamente anche tutte le società sportive e le persone che consentono di fare sport a Cortona ma non soltanto perché per vincere ci vuole una squadra ci vuole un team e a Cortona ce ne sono tantissimi dal campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino a Roberta Vinci tra le migliori teniste italiane di sempre e poi Francesca Cesarini campionessa mondiale di Poldense e vincitrice d'Italia Scott Talent 2023 questi alcuni dei big di Cortona e le sue stelle manifestazione per la valorizzazione dello sport locale poi abbiamo anche la nostra stella nascente del nuoto che è Lisa Angiolini della Virtus Buon Convento che si è classificata proprio due giorni fa per entrare a far parte delle olimpiadi di Parigi 2024 e l'immancabile Michele Santucci grande nuotatore cortonese che ha partecipato alle olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012 dopo la pandemia c'è bisogno di tornare a fare attività sportiva sempre di più i nostri ragazzi devono essere attratti dalle varie associazioni sportive che abbiamo nel territorio che sono di eccellenza e che ci sono impianti molto importanti dove l'amministrazione comunale investe lo scopo della serata è quello di valorizzare atleti e società che negli ultimi due anni hanno ottenuto riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale La serata si snoda con più parti e verranno valorizzati i nostri atleti cortonesi ma anche le associazioni sportive, le associazioni di volontariato che rendono sempre possibili i nostri eventi in sicurezza È importante che accanto al momento celebrativo ci sia anche un momento informativo e formativo delle associazioni sportive del territorio Come coni abbiamo la struttura della scuola regionale dello sport sarà presente il vicepresidente, il dottor Roberto Bresci che farà una relazione sul momento attuale sullo stato dell'arte e della riforma dello sport e quindi darà questo tipo di informazione e di formazione alle società sportive presenti E siamo alla pagina sportiva, partiamo dall'Arezzo che ha vinto per due gol a uno in casa contro la Vis, Pesaro ai nostri microfoni, mister indiani Quando è smesso di essere calcio, cioè fin tanto è stato calcio anche se noi giocavamo e loro mandavano sulla palla e basta dal fondo per trovare gli attaccanti che ci sovrastavano mei centimetri Lo sapevamo prima della partita che potevamo rischiare su pallaferma perché hanno una fisicità superiore Noi sono bravi a farlo e guarda caso abbiamo preso colo sulla pallaferma però fino a che, ecco, 70 minuti belli in cui meritavamo anche di più di doppio vantaggio credo il doppio vantaggio lo meritavamo diciamo di primo tempo Poi la fase finale hanno dei loro più calcio, hanno dei loro addirittura mandavano ancora di più la palla lassù, è chiaro, è in difficoltà L'errore che abbiamo fatto è che abbiamo fatto qualche pallaferma abbiamo fatto qualche punizione che gli abbiamo creato la situazione per mandare la palla dentro che non andava fatta però lo sapevamo e se ci mandavano la palla lassù a parabola soffrivamo perché come i centimetri eravamo molto molto più bassi rispetto a loro Lo dissi mi sembra che un tempo fa da quando abbiamo cominciato a giocare questo sistema c'è più facilità di giocare, più facilità di creare occasioni forse è stato quello ecco dal punto di vista di giocare poi è chiaro è il lavoro durante l'anno e poi alla fine qualcosa da però credo ecco dal punto di vista in casa per la periodosità offensiva sicuramente è stato il cambio di sistema Credo che 41 punti, ho detto prima, insomma il risultato cioè la salvezza a questo punto bisognerebbe per fare play out bisognerebbe proprio, non lo so, andassimo via tutti cioè la doppia per ormai il primo traguardo raggiunto ora 41 punti a 7 giorni alla fine sono un risultato straordinario ora andiamo a vedere se andiamo all'altro obiettivo se stiamo all'asticella e ci riesce di arrivare ai primi 10 se ripensa la partita andata svengo perché se ripenso che lì al 95esimo era 1-1 con due che battono la festa insieme e credo solo dell'arbitro lì su 100 arbitri mandava avanti la partita e lì finivano 1-1 e noi avevamo un punto in più e loro 2-2 e meno se ripensa l'anno scorso l'eliminazione qua in Coppa sembra proprio sia la nostra bestia nera però ecco vediamo se domenica andiamo a sfatare anche questo aspetto non è andata bene invece per i colori sempre amaranto ma in questo caso dell'Arezzo calcio femminile che ha perso a Terni sentiamo allora la nuova allenatrice sì sapevamo che era una partita difficile perché la Ternana è una grande squadra e non a caso è lassù in cima alla classifica e noi abbiamo disputato secondo me un'ottima partita purtroppo si è sbloccata la partita su un calcio piazzato da fermo insomma su una palla inattiva dove potevamo fare meglio però sono contenta della squadra perché comunque non ha mai mollato e ha lottato in ogni secondo fino alla fine l'approccio è stato dico ottimo ma anche bellissimo secondo me da parte delle ragazze perché si sono messa a disposizione mia e quindi dello staff in primis e quindi sono veramente contenta e sì il primo tempo potevamo secondo me concludere un po' di più tornevamo un po' spesso indietro quando invece dovevamo tirare e attaccare di più la porta è da venerdì che sono con la squadra e quindi ho avuto la possibilità solo di fare una seduta e mezzo perché poi ieri c'è stata la rifinitura e il mio principio l'unico che ho dato per ora è stato quello di non mollare mai e di ricorrere su ogni pallone appena si perdeva palla perché sono subito importanti le transizioni negative e positive e anche perché è il 40% delle palle che ci sono in una partita e quindi subito è stato questo e questo è stato fatto poi altri principi li dovremo dare settimana dopo settimana come ho detto alla squadra siamo 22 ragazze e 22 ragazze si devono meritare il posto in ogni allenamento in ogni domenica perché tutte fanno parte di questo splendido gruppo e quindi si devono impegnare e dare sempre il massimo il 100% parliamo infine di basket l'AMEN BC Servizi Arezzo torna dalla lunga trasferta di Borgo Manero con i due punti il quarto successo consecutivo degli Amaranto che dunque accorciano la classifica prosegue il momento positivo dell'AMEN BC Servizi che con la vittoria in trasferta Borgo Manero allunga 4 la striscia positiva a cavallo della fine della prima fase e l'inizio della seconda i ragazzi di cocce evangelisti privi del capitano Provenzal partono subito con la spinta giusta dopo il primo canestro segnato dalla squadra di casa con Ferrari piazzano un 15-0 di parziale che indirizza la partita a favore del SBA con il passare dei minuti Borgo Manero reagisce accorciando alla prima sirena meno 10 poi nel secondo quarto la gara si fa più equilibrata le squadre vanno negli spogliatoi con gli Amaranto avanti 53-45 il momento migliore dell'AMEN BC Servizi arriva a rientro in campo quando Arezzo gioca fluidamente in attacco Peluchini si sblocca segna tre triple consecutive che rilanciano la squadra di cocce evangelisti a più 15 Borgo Manero prova a reagire ma fine terzo quarto il punteggio premia sempre la SBA la gara sembra quindi incanalarsi verso un finale di semplice gestione per la SBA che invece subisce il recupero della squadra di casa Borgo Manero rimonta fino al meno 4 a questo punto prima un piazzato di Jankovic poi una tripla di toghi danno la spallata definitiva a favore dell'AMEN BC Servizi che chiude la partita sul 96-86 conquistando la seconda vittoria in altre tante uscite nella seconda fase domenica prossima al Palace Portestra arriverà Gallarate formazione che è battuto in casa il Quarrate che è arrivata al quinto posto nella prima fase solamente per differenza di Canesseri sarà dunque una sfida per capire ancora di più la crescita dell'AMEN BC Servizi di cocce evangelisti in questa fase di stagione tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'ascolto e arrivederci